e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono francia 80 siamo ritornati sui mondiali fifa 22 mondiali siamo abbiamo fatto argentina vabbè andatevi a rivedere gli altri video vi lascio anche il link in descrizione del canale del mio amico francesco 20 80 è bravo andatelo a seguire e oggi siamo qua per fare i quarti di finale inghilterra argentina speriamo di vincere perché io ho scelto l'argentina perché non ve lo dico non ve lo spoilerò perché andate a rivedere negli altri video tablet scaricato vabbè e andate a vedervi gli altri video vabbè e dobbiamo arrivare a 50 iscritti quindi lasciate like ed iscrivetevi guardiamo qualche che facciamo bene ho capito le formazioni io ho messo tutti dietro quelli forti perché volevo vedere cosa succedeva e niente vediamo se vinciamo o perdiamo cioè io spero di vincere mi sembra una partita vabbè nemmeno abbiamo iniziato quindi devo stare zitto già iniziamo male con la rimessa da lui vabbè abbiamo iniziato molto calmo non ci mettiamo la prescia potrebbe succedere di tutto potrebbero fare senza altri mortali oh bravi ok nostra nostra passa bravo che l'hai triplato l'hai lasciato vedere no più prima il passaggio sono l'arbi sono il l'allenatore ok non l'ho toccato oddio no messi prima devi tirare scusate se faccio il silenzio silenzio da tre yarding comunque bravi 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 no bravo vedo forte la squadra ora perché o perché siamo carichi perché all'inizio mamma mia abbiamo iniziato a giocare stiamo giocando bene ho messo offensiva guarda se si equilibra tutto no mette equilibra ok ok vai offensiva vai offensiva no che ho fatto oh bello anche così lo schermo mazza è già finito il primo tempo tiro va bene finita fine primo tempo buon fine primo tempo bello e vediamo se arriviamo ai vinciamo dai vinciamo io vedo già che alzo la coppa come tutti i video se vuole la gorgola sponsorizza vabbè vuole io sono qua mi mandi un'idea un'email grazie è più veloce di me come chi è come c'è come c'è come chi è non ci so va bene no ok mettiamo offensiva ora dobbiamo stare difensivi che facciamo qua offensiva io direi di stare dietro Ragazzi, ora partire Una canzone super figa, ciao Tocca a te Che dribbling Che dribbling Vai, tocca a te Acugna, quello che aveva segnato Alla seconda partita E lui non sa dribblare Così si dribla Ecco Vai Martinez Lo dribla Che dribbling Così bravo Hai imparato tutto da tuo padre No Perché abbiamo perso palla Non mi piace quando perdiamo palla Perché è succeduta questa roba? Mannaggia Dovevamo mostrarcela come prima Abbiamo fatto una cavolata Dovevamo rimanere tutti dietro Possiamo tutti a morire noi Dai Dai, però non voglio andare a supplementare Ok Mettiamo equilibrata Ok, supplementare, niente Cambi perché sono tutti stanchi Uno buono Che è sopra 85 Buono Ok, salviamo Fermi Ho sbagliato le formazioni Bravissimo Come se sta facendo delle azioni assurde È bravissimo Intanto ne approfittiamo Per metterlo un po' più dietro E Correa Lo cambiamo con Lui Poi cambiamo lui No Ti vai qua Poi cambiamo lui E basta Vai Bella squadretta Bella squadretta Guarda, stanno tutti a rosso Questo? Ecco, De Paolo l'ho fatto entrare ora Mi pare, sì Facciamo il 3 a 1 Così lì chiudiamo la partita Come un fio Proprio Quando lo segniamo Finisce la partita Allora Io De Paolo lo vorrei cambiare Sono tentato Il portiere Non c'è un portiere Ok Va bene Vai Bravi Ok No Non è ok Non è ok Bravi Bravi Che gli avete dato un calcio Sugli stinchi Bravi Vai andategli addosso Spaccategli le gambe Dai Harry Harry No Non ci voleva sto pallo Ora Sono guai Sono guai Mancavano 3 secondi 3 minuti 3 secondi Sì Mamma mia L'ho vista fuori Per me Per me Tirano Per me tirano Centrale No Pensavo L'amo tirano Questo esce Ok Parabile Per me Per me tirano Per me 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 Io ho questa intenzione Che tirano Dove Tira il portiere Dove Sta il portiere Fermo Invece Ora Tirano sempre là Deciso Questo è parabile Difficile Di maria Attento Se fai degli errori Ti butto via Dalla squadra Sì Parata Mettiamo offensiva Non me ne frego Niente Sì Abbiamo vinto Semifinali E abbiamo vinto Si va alle semifinali Qua se volete vedere Il pronostico Vabbè Ma non ve ne frega Niente Abbiamo vinto Si va alle semifinali Contro il Belgio Dai E poi si va alle finali Contro il Brasile Mi pare che è l'Olanda Sì l'Olanda E niente ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo In un prossimo video Ah io volevo dire Che arriveranno Dei video Su Brawl Stars Perché è uscito Un nuovo Aggiornamento E allora tutti A giocare là Vabbè Per questo video è tutto Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao